Commercianti, baristi e ristoratori di Como chiedono all'amministrazione di mantenere inalterato il costo del suolo pubblico anche per l'anno 2022. A sottoscrivere il documento, protocollato questa mattina in Comune, una trentina di attività del capoluogo. La situazione pandemica ancora in atto e il caro Bollette hanno spinto dunque gli esercenti a chiedere aiuto a Palazzo Cernezzi anche per quest'anno. I commercianti di Como città preoccupati sia della situazione pandemica che non garantisce una ripresa costante, turisti assenti e città vuota, si legge nel documento inviato all'amministrazione, sia dalle difficoltà contingenti per l'aumento dell'energia elettrica e del costo dei prodotti, chiedono una proroga della delibera sull'utilizzo del suolo pubblico. Proprio per far fronte alla situazione di emergenza e alle difficoltà registrate dalle attività economiche, l'amministrazione in piena pandemia aveva messo in campo proroghe e agevolazioni. In questo modo, si legge ancora nel documento, si potrebbe continuare ad operare con serenità soddisfacendo le esigenze dei clienti che vogliono sedere all'esterno dei locali e inoltre si affronterebbero le nuove norme riorganizzando al meglio l'attività e risparmiando costi suppletivi importanti. Infine, le attività del centro cittadino invitano le associazioni di categoria a sostenere le loro richieste.